bentornati prima di addentrarci nello studio di blender vorrei provare a parlare un po di teoria magari dirò qualche strafalzone mi perdonerete però il mio intento è quello di farvi capire dei concetti di base a un certo punto se non ricordo male verso il 1600 un filosofo francese che noi oggi chiamiamo cartesio si era posto il problema di riuscire a riprodurre una serie di punti su un piano in maniera univoca vi faccio un esempio come possiamo fare per riprodurre in maniera univoca la posizione di questi punti l'idea che venne cartesi fu quella di creare un sistema di riferimento una sorta di diagramma appunto chiamato oggi diagramma cartesiano che consentisse di trasferire le informazioni grafiche di questi punti in informazioni numeriche in modo da poter riprodurre in qualsiasi momento lo schema che ad esempio vediamo in questo momento a video come ha fatto cartesio ha ipotizzato di tracciare due assi che formano il sistema di riferimento un orizzontale che noi oggi chiamiamo asse x e uno verticale che chiamiamo asse y ha quindi stabilito che il punto in cui gli assi si incrociano è l'origine è stabilito che su questi assi venisse posizionata una successione numerica ad esempio lungo l'asse x abbiamo 1 2 3 4 5 e così via e stessa cosa per l'asse y andando nel senso della freccia quindi verso l'alto e abbiamo 12 e così via e andando nel senso posto ovviamente abbiamo i numeri negativi quindi meno 1 2 e così via cosa è riuscito a fare creando questo semplicissimo sistema di coordinate è riuscito a consentire alle persone di individuare la posizione dei punti a b c eccetera utilizzando i numeri ad esempio il punto a in questo momento si trova nel punto meno 5 dell'asse x e nel punto 4 dell'asse y quindi le coordinate meno 5 e 4 sono le coordinate del punto a b invece si troverà nelle coordinate 7 e 3 ci si troverà nelle coordinate meno 2 e meno 4 di conseguenza possiamo trascrivere foglio di carta con coordinate meno 5 e 4 il punto a il punto b con coordinate 7 e 3 c con coordinate meno 2 e meno 4 ecco vedete io trascrivendo messo un foglietto queste coordinate riesco in qualsiasi momento anche a distanza di tempo a ridisegnare il triangolo a b c o comunque la posizione di a b e c questo semplice trucchetto chiamiamolo così è stata una cosa innovativa senza questo la scienza oggi sarebbe ferma medioevo grazie alle coordinate cartesiane se riuscite a creare la grafica che conosciamo oggi pensate che ogni singolo pixel mostrato in questo momento nel monitor è dotato di una coordinata x e y ecco in maniera molto povera questo concetto è lo stesso sistema che oggi ritroviamo in blender con la differenza che non utilizziamo soltanto l'asse x e y ma anche l'asse z perché non stiamo lavorando su un piano ma stiamo lavorando su uno spazio quindi le direzioni di movimento non sono soltanto x e y ma anche z in blender quest'asse è colorato in blu quindi i tre colori rosso verde e blu ricordatelo sempre corrispondono appunto ai tre assi in genere l'asse z è quello perpendicolare al nostro piano quindi immaginatevi anche il mondo che ci circonda se noi lasciamo cadere una pallina per terra ecco questa pallina si muoverà lungo l'asse z detto in maniera molto semplicistica ma passiamo adesso a blender per andare a conoscere insieme lo spazio tridimensionale della viewport 3d osserviamo intanto gli assi x e y li abbiamo appena visti quello rosso è l'asse della x quello verde è l'asse della y l'asse z non è per default visualizzato tuttavia lo possiamo intanto vedere qui in questo manipolatore che troviamo in alto a destra vedete l'asse z è colorato di blu e se vogliamo visualizzarlo anche all'interno della viewport possiamo andare all'interno del menu overlays che impareremo a utilizzare nel tempo e che troviamo qui in alto sulla destra vedete che gli assi visualizzati sono x e y se facciamo clic su z comparirà anche quest'ultimo prima di proseguire e vedere insieme come si naviga all'interno di questo spazio tridimensionale diamo un'occhiata a quali sono gli oggetti presenti per default nella scena quando apriamo blender oltre agli assi vediamo una griglia che rappresenta il piano x y ed è costituita da questa maglia grigia che ci consente di avere percezione di una sorta di pavimento sul quale ci troviamo anche in questo caso nell'ottica di un'ampia personalizzazione di blender sappiamo che la potremmo eliminare nascondere tuttavia noi durante lo svolgimento di questo corso la manterremo vediamo che ci sono tre oggetti distinti quello più appariscente è anche quello più famoso è il cubo il cubo di default è questo oggetto che si trova esattamente al centro della scena e si trova proprio in corrispondenza dell'origine degli assi ovvero dove l'asse x y z si incrociano oltre al cubo troviamo la telecamera che è questo oggetto a forma di piramide a base rettangolare la forma vedremo che rispecchia il formato dell'immagine che andremo a produrre in questo caso un 16 noni vediamo infatti che la base di questa piramide appunto a questo rapporto e poi abbiamo questo piccolo pallino grigio che è una fonte di luce infine vi voglio far notare il 3d cursor che si trova anch'esso al centro della scena all'interno del nostro cubo ed è questo cerchietto bianco e rosso vedremo nel proseguire delle lezioni come 3d cursor sarà molto utile come sistema di riferimento come punto di appoggio una sorta di ancora per i nostri comandi l'inserimento delle nostre mesh o come punto di rotazione punto di scala di trasformazione lo vedremo insieme più avanti ma al suo interno vediamo anche un piccolo pallino arancione ecco questo pallino arancione è l'origine dell'oggetto cubo ogni oggetto ha una sua origine e la coordinata x y z di un oggetto è riferita a quest'ultima ma su questo torneremo comunque più avanti quello di cui vorrei parlarvi oggi è in realtà il modo in cui noi possiamo navigare all'interno della nostra viewport 3d qui in basso a sinistra vedete un'icona di un mouse nella vostra versione di blender probabilmente non compare perché non è presente di default in blender e va attivata perché ha un addon a parte che si chiama screencast io l'ho attivato per voi per farvi vedere quali sono i tasti che premo bene come si naviga all'interno della viewport 3d la prima cosa che dobbiamo considerare è che per lavorare bene con blender è importante avere un classico mouse a tre pulsanti anche molto economico però funziona benissimo al pulsante destro pulsante sinistro al centro la rotella che può essere sia ruotata che schiacciata eseguiamo insieme la prima operazione di navigazione l'interno della viewport 3d ovvero lo zoom per avvicinarci o allontanarci rispetto al punto di vista attuale dobbiamo usare la rotella del mouse quindi la dobbiamo ruotare in avanti o indietro vedete il cubo e gli altri oggetti si allontanano e si avvicinano proprio nell'applicare questa rotazione lo stesso identico effetto lo possiamo ottenere facendo clic su quest'icona a forma di lente di ingrandimento con il più provate cliccate e trascinate avanti e indietro vedete che è molto semplice eseguire uno zoom fluido molto più fluido che con la rotella del mouse un po meno veloce forse però ci permette di eseguire degli spostamenti molto più precisi in più la presenza di questa icona ci permette di eseguire lo zoom anche se stiamo usando per esempio una tavoletta grafica con una penna anziché utilizzare la rotella del mouse possiamo andare a fare clic su questa icona e quindi possiamo trascinare avanti e indietro la penna per eseguire lo zoom un'altra operazione per la navigazione all'interno della viewport 3d è quello di ruotare la vista per fare questo si utilizza sempre la rotella centrale del mouse ma anziché ruotarla clicchiamo quindi clicchiamo e trasciniamo per vedere che cosa succede alla nostra visuale ecco vediamo iniziamo a ruotare attorno al nostro cubo ed è un'operazione molto semplice che col tempo diventerà sempre più naturale per voi come per lo zoom anche la rotazione della scena può avvenire tramite queste icone che troviamo sulla destra in particolare qui si va a utilizzare questo manipolatore costituito dai tre assi x y z se noi andiamo a cliccare all'interno di questa circonferenza andiamo a eseguire una rotazione molto simile a quella che avremmo cliccando sulla rotella centrale del mouse un'altra operazione molto importante invece il panning ovvero uno spostamento parallelo alla vista che abbiamo attualmente nel monitor per eseguire questa operazione si deve tenere premuto il tasto shift della tastiera e quindi cliccare sulla rotella del mouse e trascinare facciamoli insieme teniamo premuto il tasto shift clicchiamo sulla rotella e trasciniamo vedete che adesso possiamo spostare il nostro punto di vista a destra e sinistra in alto in basso in maniera parallela al nostro monitor stessa identica operazione la possiamo avere facendo clic sull'icona a forma di mano clicchiamo col tasto sinistro del mouse e trasciniamo l'effetto è identico la combinazione di questi tre tipi di spostamento ci permettono di navigare all'interno della viewport 3d per esempio se vogliamo visualizzare più da vicino la faccia superiore del cubo possiamo in primo luogo ruotare la vista in modo da posizionarci più in alto quindi possiamo usare la rotella per zoomare e il pan per centrare la vista fatelo anche voi un buon esercizio è quello di andare a visualizzare tutte se le facce del cubo proviamo per esempio andare a visualizzare quest'altra faccia questa quella in basso e così via fatelo come esercizio perché è molto importante all'interno del viewport 3d abbiamo inoltre la possibilità di visualizzare lo spazio tridimensionale in due modi simili ma differenti guardiamo bene la nostra griglia queste linee che viaggiano parallelamente all'asse x in realtà convergono verso un unico punto di fuga questa è una vista detta prospettica e sappiamo che stiamo utilizzando questo tipo di vista non solo perché abbiamo appunto questo punto di fuga ma ce lo dice anche blender qui in alto a sinistra stiamo utilizzando una vista di tipo user perspective user vuol dire che non è una vista predeterminata tipo in alto in basso destra sinistra quindi una vista libera e perspective vuol dire che in prospettiva con i punti di fuga questo modo di visualizzare lo spazio 3d più amichevole per noi esseri umani perché tutto ciò che ci circonda in realtà lo vediamo con una vista prospettica al contrario possiamo voler vedere la nostra scena con una proiezione parallela cioè senza punti di fuga per ottenere questo tipo di visualizzazione possiamo premere il tasto 5 ecco che è cambiato qualcosa non ci sono più le linee di fuga vedete che il cubo ha assunto una forma un po strana un po meno realistica perché appunto è un modo di visualizzare tipico del disegno tecnico ci ricorda molto quello che abbiamo vissuto nei nostri anni delle scuole medie e anche nel biennio delle scuole superiori comunque anche se è una vista parallela nessuno ci vieta di eseguire le rotazioni lo zoom e il pan guardiamo inoltre qua in alto a sinistra vedete la scritta è cambiata scritto user ortografic vista ortografica che vuol dire appunto una grafica ortogonale con linee appunto parallele tra di loro è sempre preceduta dalla scritta user che vuol dire punto di vista diversa da quelle standard per passare dalla vista ortografica alla vista prospettica si può usare appunto il tasto 5 del tastellino numerico ma si può utilizzare anche questa icona che troviamo qua a destra l'icona più in basso se facciamo click passiamo alla vista prospettica se rifacciamo click vedete che l'icona cambia per passare alla vista ortogonale abbiamo parlato di viste di tipo user ovvero la vista utente ma quali sono le viste invece predefinite le viste predefinite sono la vista dall'alto dal basso da destra e da sinistra come si fa a passare a una di queste viste si utilizza il tastierino numerico questo è il motivo per cui vi consiglio vivamente di dotarvi di una tastiera estesa quella che è proprio a fianco della tastiera classica anche il tastierino numerico perché utilizzando questo tastierino avremo la possibilità di passare molto velocemente da una vista all'altra osserviamole insieme l'otto il due il quattro e sei formano una sorta di croce con questa croce noi possiamo eseguire delle rotazioni con dei passi standard in alto col tasto 8 in basso col tasto 2 a sinistra il tasto 4 a destra col tasto 6 quindi possiamo ruotare con degli scatti predeterminati ma i tasti più importanti sono invece i tasti 7 1 e 3 il tasto 7 ci porterà nella vista superiore guardate in alto a sinistra adesso vediamo che siamo passati alla vista top non siamo più alla vista user ma siamo alla vista top ovvero dall'alto e contemporaneamente siamo passate la vista ortografica adesso clicco con la rotella del mouse e mi metto in una posizione qualsiasi sono tornato alla vista prospettica di tipo user c'è una vista qualsiasi se premo il tasto 7 facciamolo di nuovo insieme passiamo la vista top cioè dall'alto ed è anche ortografica quindi noi vediamo il nostro cubo con una proiezione parallela visto dall'alto con il tasto 1 invece passiamo alla vista fronte la vista frontale vedete anche che cambiano i colori degli assi che vengono visualizzati in questo caso noi stiamo vedendo l'asse x e l'asse z mentre l'asse y non lo vediamo perché di fatto è perpendicolare al monitor quindi viene verso di noi con il tasto 3 invece passiamo alla vista destra bene come fare però per passare alla vista dal basso per esempio possiamo utilizzare la combinazione control per andare a vedere la vista opposta quindi se io premo anziché il tasto 7 per vedere la vista top posso premere control 7 per andare a vedere la vista bottom ovvero la vista dal basso così come col tasto 1 vado a vedere la vista frontale con control 1 vado a vedere la vista da dietro col tasto 3 vado a vedere la vista destra col tasto control 3 vado a vedere la vista sinistra abbiamo visto quindi cosa serve l'otto il 2 e 4 e 6 il 7 l'1 e il 3 ci manca il 9 cosa serve il 9 bene il 9 serve per vedere la vista opposta a quella dove ci troviamo in questo momento quindi adesso stiamo guardando la vista left premendo il tasto 9 ci troveremo alla vista right se ci troviamo nella vista top premendo il tasto 9 andiamo a vedere bottom ovvero la vista dal basso anche se ci troviamo in una vista qualsiasi premendo il tasto 9 andiamo a vedere la vista opposta quindi in qualsiasi momento noi possiamo visualizzare il nostro oggetto da un lato all'altro premendo il tasto 9 se non abbiamo il tasto numerico a parte il fatto che lo possiamo emulare andando nelle preferenze di blender abbiamo comunque la possibilità di utilizzare il manipolatore di rotazione qui in alto a sinistra per esempio per posizionarci nella vista top sarà sufficiente fare clic sulla lettera z così per passare alla vista destra clicchiamo su x la vista frontale su y e di conseguenza per vedere gli opposti andremo a cliccare su meno x meno y o meno z anche in questo caso vediamo come sia molto utile per chi utilizza la tavoletta grafica continuiamo a vedere i tasti messi a disposizione sul tastierino numerico abbiamo il tasto 0 per esempio con il tasto 0 noi possiamo passare dalla vista attuale a quello che sta vedendo la telecamera facciamo insieme ecco che l'inquadratura si è spostata nel punto di ripresa vedete questo rettangolo più chiaro è quello che verrà prodotto dall'immagine del rendering finale lo vedremo naturalmente più avanti ripremendo il tasto 0 torniamo alla vista precedente e questa operazione la possiamo naturalmente fare anche con l'icona della telecamera che troviamo qui nel menu a destra quindi facendo clic possiamo passare dalla vista camera alla vista normale anche in questo caso è molto utile per chi utilizza la tavoletta grafica abbiamo visto che nella nostra scena ci sono questi tre oggetti la telecamera il cubo e la fonte di luce io adesso lo sto selezionando per selezionare lo vedremo comunque dalla prossima lezione si può utilizzare il tasto sinistro del mouse ma quando seleziono per esempio il cubo notiamo che succede qualcosa anche nell'outliner qui in alto a destra vedete il cubo una volta che è stato selezionato nella viewport 3d viene selezionato anche nell'outliner stessa cosa se selezioniamo un oggetto nell'outliner questo viene selezionato anche nella viewport perché ve lo faccio vedere in questo momento perché esiste la possibilità di utilizzare il tasto virgola del tasto numerico quello a destra dello zero per andare a visualizzare l'oggetto selezionato per esempio ci troviamo sperduti nella viewport 3d ecco io ho volutamente zoomato non si vede più niente il cubo chissà dove è andato anche se in realtà abbiamo i 3d carson che ci dà una mano ma vogliamo andare a vedere al volo dove è finita la nostra telecamera facciamo clic su di essa nell'outliner quindi grazie al tasterino numerico in particolare il tasto virgola premiamolo insieme ecco che ci viene fatta vedere subito la telecamera cioè viene eseguito uno zoom sull'oggetto selezionato questo può funzionare anche su più oggetti per esempio se seleziono l'oggetto cubo e luce contemporaneamente premo il tasto virgola e lo zoom va a spostarsi in modo da vedere questi due oggetti questo è comodissimo soprattutto quando ci troviamo in difficoltà che nel fare le prove che magari vi troverete a zoomare ma sembra non funzionare questa cosa vi perdete ecco non abbiate paura in qualsiasi momento potete selezionare un oggetto per esempio in questo caso selezionato il cubo premendo la virgola ci troviamo a concentrare la nostra vista sull'oggetto selezionato e quindi possiamo ripartire zoomando spostandoci e ruotando la vista con i tasti più e meno possiamo eseguire lo zoom avanti e indietro quindi in maniera completamente analoga a quello che possiamo fare con la rotella del mouse e con l'icona della lente di ingrandimento bene prima di lasciarci vi propongo un esercizio che per molti di voi sarà difficilissimo però vi invito davvero a eseguirlo perché è molto molto importante prendere dimestichezza con la navigazione all'interno della viewport 3d troverete nella descrizione del video oltre il link alle dispense che vi invito a scaricare se avete piacere di supportare la pubblicazione delle lezioni troverete anche il link a questo oggetto un file di blender che potrete liberamente scaricare per allenarvi a navigare all'interno della viewport 3d dovrete di fatto entrarci dentro e andare a scovare tre frasi che ho scritto per voi quindi la sfida di questo esercizio è andare a inquadrare con la viewport 3d queste tre frasi ve ne faccio vedere una eccola uno applica la scala per il momento questa frase non vi dice nulla ma vi prometto che nelle future lezioni assumerà un significato molto importante andate a trovare anche le altre due frasi sarà un ottimo esercizio io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto